Una biglia di acciaio viene lanciata da una fionda posta in cima a una rupe. La biglia segue una traiettoria parabolica. Dunque la traiettoria può essere descritta da un'equazione di questo tipo. Da quanti e quali parametri dipende la traiettoria? Da tre parametri. L'altezza di partenza, l'angolo di distacco, la velocità iniziale. Analizziamo allora come influiscono questi parametri sui coefficienti dell'equazione della parabola. Aggiungiamo gli assi cartesiani. Immaginiamo che la biglia venga lanciata da un'altezza di partenza di 100 metri. Dunque la biglia partirà dal punto di coordinate 0,100. Questo è il punto di intersezione della parabola con l'asse y. Dunque il coefficiente c dell'equazione vale 100. E se non cambiamo la posizione della fionda, questo coefficiente non cambierà. Possiamo poi aggiungere che, dato che la concavità è rivolta verso il basso, il coefficiente a è negativo. Inoltre, se l'angolo di partenza è compreso fra 0 e 90 gradi, allora il vertice della parabola sarà nel primo quadrante. Dato che il vertice si trova in corrispondenza di x uguale meno b fratto 2a e a, come abbiamo appena detto, è negativo, allora possiamo concludere che b sarà sicuramente positivo. Fissata l'altezza di partenza, come varia la traiettoria al variare degli altri due parametri iniziali? Per cominciare, analizziamo cosa succede se manteniamo un angolo fisso e variamo la velocità di lancio. Maggiore la velocità iniziale, più ampia diventa la parabola. Riportiamo i coefficienti a e b di queste parabole. Notiamo innanzitutto che il coefficiente b non varia e dunque non dipende dalla velocità di lancio. Invece, il coefficiente a sembra essere inversamente proporzionale al quadrato della velocità di lancio. Raddoppiando la velocità iniziale, il coefficiente a diventa un quarto. Triplicando la velocità iniziale, a diventa un nono. Che cosa succede invece se manteniamo fissa la velocità di lancio e variamo solamente l'angolo? Vediamo cosa succede variando l'angolo fra 0 e 75 gradi a passi di 15 gradi. Aumentando l'angolo, la distanza del punto di impatto aumenta fino a un certo punto, poi diminuisce. In questo caso specifico, con questa velocità iniziale e questa altezza di partenza, la distanza massima si raggiunge lanciando la biglia con un angolo di circa 37 gradi. Analizziamo ora i coefficienti delle equazioni che rappresentano queste traiettorie. Notiamo che, variando l'angolo, variano sia il coefficiente a, sia b. All'aumentare dell'angolo, il coefficiente b aumenta. E aumenta anche il valore assoluto del coefficiente a. Infatti, il coefficiente a è legato all'ampiezza della parabola. Aumentando l'angolo, l'ampiezza della parabola diminuisce e il valore assoluto del coefficiente a aumenta. Abbiamo così analizzato come l'altezza di partenza, l'angolo di lancio e la velocità iniziale di un oggetto che viene lanciato influiscono sui coefficienti dell'equazione della parabola che definisce la sua traiettoria.